Finisce con i giocatori Granata che corrono sotto la curva dei propri tifosi per festeggiare assieme la vittoria contro la terza della classe. Il Savoia di Sasamura regolata di misura grazie ad una rete di torcivi entrata alla mezz'ora al posto dell'argentino Pignatta. Il noto può sorridere, i play-out adesso sono stati acciuffati, ma la squadra vise in queste settimane nulla a che vedere con i bassi fondi della classifica. La partita contro il Savoia poteva finire in goleada se non fosse stato per l'estremo difensore ospite Vitello, in decisa giornata di grazia che ha salvato i suoi da un passivo più pesante. Con le immagini curate da Savoia Lentini abbiamo visto le prime occasioni del noto, l'ultima quella di Trimarco che si è presentato solo davanti alla porta di Vitello e ha sparato a botta sicura su di lui. In questa occasione si infortunia Pignatta, dopo 7 minuti sarà costretto ad uscire. Un lancio dalle retrovie per merito che addomestica il pallone, di destro ci prove, lambisce il palo e il noto non riesce a sbloccare la partita. Qui è esposito da lontano, anche il suo tiro lambisce il palo, il noto sfortunato. Al trentesimo la mossa azzeccata da Mr. Betta, Pignatta fuori, entra Torcivia, il numero 14 deciderà la contesa. Subito noto pimpante, qui un cross di esposito alla ricerca della testa di Merito, in angolo si salva Vitello. E ancora una solo del noto, Merito per Torcivia, siamo al 44, Torcivia tutto solo davanti al portiere, non si fa ipnotizzare, bella la parata di Vitello e per Torcivia non resta che mettere le mani tra i capelli. Andiamo al secondo tempo, secondo tempo che si sblocca con il gol del noto. Siamo al settimo minuto di gioco, quando da questa rimessa laterale il pallone, sporcato da Trimarco, appoggiato e scaricato su Troiano, arriva a Torcivia. Sombrero, destro e Vitello, questa volta non può fare nulla. Esplode il palatucci, finalmente pieno per una squadra che sta rispettando i proclami di inizio anno. E Torcivia corre ad abbracciare gli amici in panchina e Mr. Betta. Un gol che in altri tempi avremmo definito di pregevolissima fattura. Il noto, rinfrancato dal gol, cerca di amministrare bene, abbiamo rivisto un'altra volta il gol, cerca di amministrare bene il vantaggio, qui l'unico squillo degli ospiti con questo tiro dalla distanza di Garro. Poi, nuovamente, solo e solamente noto, che cerca in tutti i modi di mandare cappò l'avversario. Qui, colpo di testa di Torcivia, fuori di pochissimo. Ancora noto, in Telisano che è imposta da dietro, la palla viene liberata dalla difesa avversaria, ma un rimpallo favorisce Torcivia, che sfrutta il rimpallo della bandierina, si presenta tutto solo, crossa per merito, ma è solo illusione ottica, quella che dà agli 800 presenti al palatucci. Ancora noto, Mautone che apre per Trimarco, Trimarco rasoterra per merito, sbaglia l'impatto, il capitano, ieri Montalto era in panchina, se la prende col terreno di gioco, una partita sfortunata per merito, che non è riuscito a lasciare il timbro. Ultima azione, nemmeno a dirlo di marca Noto, palla che arriva sul destro di Torcivia, lambisce la traversa, e dopo sei minuti di recupero, l'arbitro manda tutti sotto la doccia e il Noto festeggia la sua quinta vittoria consecutiva. Dopo il triplice fischio finale, classico terzo tempo tra le due formazioni. Il Noto corre sotto propri tifosi e anche i giocatori del Savoia rendono omaggio così ai tifosi che hanno seguito la squadra fino a Noto.